GO! 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 è carico! è carico! è carico! tanto quelli stanno a giocare a bocce bravo! piano a scendere! non si cazzo! hai fatto più di la piazza? mi! dovrei riportarti di più! valenti un respiro in più e arrivi qua tranquillo mi! c'è arrivato anche il laghe vai indietro! avanti qua! bravo! bravo! dai va bene! si! si! ecco io ti per fare! buongiorno! guarda che dopo lo vedono di là eh! chi se ne frega! chi si lamenta? va là insieme al Paolo a aiutare quindi non ti preoccupa numero uno! minchia l'abbiamo già cotto fagliela vedere! ha detto com'è la zona! vice! dai fagliela vedere te! su! dai dai te la fa vedere il Pietro! su! 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 questo sta facendo le regolazioni del coso! guardala bene eh! guardala bene eh! che svappato me la fa eh! bravo! 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 che si è riuscito a girare un po' più alto! via veloce eh! prima volta! dai! facci sognare! forte! tocca al davanti! bravo! il peso il peso Frank ricordati un po' di peso dai è perché stringe il sedere per quello che si stringono le ginocchia dai via così hai visto dove aveva il casco? qua quando vedi gli altri tu prima hai fatto guardare oh, eri così quando hai girato giù io faccio lo stesso lavoro cazzo, così che davanti ti gira fuori e tu gli vai dietro e quando andavo in trial ero capace poi ho smesso mi ha fatto smettere poi hai ragione anche te